Carissimi amici, buongiorno e benvenuti in questo video. Io come sempre sono Alessio e oggi parliamo di giacche. Giacche da uomo, giacche monopetto, doppiopetto, quello che volete, ma voglio parlare con voi in una chiave un po' diversa rispetto a quello che si può trovare qua su internet per quella che è la scelta delle giacche, delle quali abbiamo già parlato in altri video, che vi lascio comunque qua sotto in descrizione, perché quando si parla di eleganza, quando qualcuno vuole aumentare il proprio stile o quando qualcuno vuole implementare quello che già ha, deve passare per forza per le giacche. E allora mi sono detto, ma quasi quasi possiamo anche un po' parlarne. In questo video fondamentalmente vedremo quali sono le caratteristiche delle giacche e perché si passa per forza da qua. Ora, l'abbiamo già detto qualche tempo fa, una delle cose che permette di far capire agli altri che sappiamo, il fatto nostro, il fattore d'eleganza, è sicuramente la camicia bianca. La giacca è il secondo step, perché provate a immaginare questa cosa. Provate a immaginarvi una camicia e se voi pensate che quello che potrebbe implementare, quindi aumentare il nostro livello di stile, potrebbe essere una cravatta, immaginatevi con una camicia e una cravatta. Fatto? Ok, ora immaginatevi con una camicia e una giacca. È chiaro che la camicia e la giacca ci possono stare, ma la camicia e la cravatta senza giacca non esistono, quindi tanto vale prendere in considerazione le giacche. Ora, la giacca che tutti quanti dobbiamo avere nel nostro armadio è sicuramente una giacca che ha le spalle non mollicce, come quelle di stoffa. Non parlo di giacche un pochino più rigide rispetto a quelle che possono essere considerati dei cardigan. No, assolutamente. Per me un cardigan a forma di giacca resta sempre e comunque un cardigan. Non lo prenderei minimamente in considerazione. Parliamo di giacche come questa. Più o meno sportive ci stanno, più o meno scure, però quello che vi dico sempre in tutti i miei video è che la caratteristica che deve avere una giacca, se dovete comprarla o se magari volete guardare con un occhio un pochino più critico il vostro guardaroba, è che deve essere o blu o grigia di tutte le tonalità, possibilmente verso l'oscuro e poi vi mi direte, sì ma io ho capito, ma Ale, ma come faccio a capire se è chiaro o scuro? Dai, c'è bisogno che te lo dica io, lascia stare. Comunque guardale e vedi se il grigio o il blu che hai nell'armadio tendono al chiaro o all'oscuro, anche solo a tuo parere. La gessatura ti può venire incontro, ma tieni presente questo, le righe devono essere molto sottili e soprattutto ci devono stare bene. Ho usato una giacca gessata che tra l'altro è una delle mie preferite in qualche video, che ti lascio qua sotto in descrizione, ma mi raccomando, una delle cose estremamente importanti sono le spalline e la cucitura delle maniche. La giacca generalmente viene utilizzata per dare una forma alle tue spalle e ti viene incontro se le spalle magari non le hai molto ben definite o vuoi una definizione maggiore. Quindi tanto vale che scegli una giacca giusta, guarda quelle che hai, oppure se vai a sceglierne una, scegli quella che fa al caso tuo. Una volta individuato il modello, anche comprato nel negozio fast fashion di turno, che può essere Zara, H&M o quello che vuoi, inserire brand qui, trova quello che può fare al caso tuo e rimani sempre su quella linea. Il mio suggerimento è, se stai cominciando, prendine magari più di una e quelle due che devi comprare minimo devono essere blu e grigia, come ti dico sempre. Quella nera, se non ce l'hai, è utilizzabile preferibilmente in situazioni estremamente formali oppure purtroppo per i funerali. Una volta individuato quello che è il modello di base che devi in qualche modo acquistare, tieni presente questo, portala sempre da un sarto, da una sarta, falla riprendere a tua nonna, a tua mamma, a chiunque abbia un minimo di skill a livello sartoriale, falla riprendere. Perché? Perché i modelli dei negozi, se non te la fai fare su misura, ovviamente, e ti consiglio, anche solo per curiosità, di buttare un occhio su Groupon o su uno di questi siti che ti fanno vedere che esistono dei professionisti che ti vengono incontro e fanno anche delle promozioni. Io ho acquistato più di una giacca in questa maniera. Guarda quello che c'è e eventualmente scegli di andare da un professionista che te la faccia su misura piuttosto che comprarla in un negozio fast fashion. Ma, se la stai comprando in un negozio fast fashion, portala da un sarto. Questo perché? Non perché voglia farti spendere ancora più soldi rispetto a quelli che hai già speso, che se l'hai comprato in un negozio fast fashion, permettemi di dirtelo, non hai speso quanto dovresti spendere. Ma perché i negozi fast fashion si basano su delle misure che sono medie, fondamentalmente. Quindi, dovresti cercare di capire dove va un po' ripresa. Magari la lunghezza della manica, il torace, la parte posteriore, le spalle. Cioè, ci sono tanti fattori che devi prendere in considerazione e se vai da un professionista, da un sarto, dici, mi devi mettere a posto questa giacca addosso. Lui te la fa indossare e vedrai tu stesso che dici, ok, la riprendiamo un pochino qui, la stringiamo un po' di pancia, allargare è estremamente difficile, ma magari di mezzo centimetro si può anche allargare. Qualche piccola modifica te la può anche fare. Una cosa della quale devi tenere sempre considerazione, per me è estremamente importante, sono i bottoni sulla manica. Se la manica te la accorciano di qualche centimetro, fattelo spostare il bottone, perché molto spesso ti potrebbe venire proposto di toglierlo il bottone. No, fallo spostare. Ah, è una cosa che trovo un po' da ganasa o da bauscia, come diciamo noi qua a Milano, è quando tieni il primo bottone, te la fanno su misura, te la fa un sarto la giacca, il primo bottone slacciato per far vedere che... no, dai, veramente, no, per piacere, no. È così come le asole di un colore diverso? No, non è il caso. Ricordiamoci che l'eleganza è sicuramente tutto quello che riguarda la conoscenza, la consapevolezza di noi stessi, la consapevolezza di quello che può essere il nostro carattere, il nostro impatto sugli altri, la conoscenza dell'eleganza classica, ma soprattutto non l'ostentazione, quindi anche le asole di un colore diverso... no. Il prezzo medio di una giacca fatta su misura, adesso non ve lo posso dire perché non lo so, perché per fare questo video ho recuperato dei dati e con 120 euro mi veniva fatta una giacca su misura, che è il minimo che prenderei in considerazione nei negozi del mass market, quindi se io vado in un negozio, che sia Pinco Pallino o chi per esso, e mi provo una giacca, difficilmente trovo una giacca che mi piace al di sotto delle 120 euro, questo perché? Perché purtroppo i materiali, i tagli, le cuciture, i dettagli, perché anche le spalle sono dei dettagli non indifferenti, i bottoni, i giri dei bottoni, la tecnica di cucitura dei bottoni non è qualcosa su cui possiamo trascendere, quindi questa cifra è quella che io reputerei media per l'acquisto di una giacca che ci può in qualche modo durare nel tempo. Due piccole regole sull'utilizzo della giacca, se volete potete indossare una pochette, personalmente non amo le pochette per due ragioni, il primo perché non mi piace vedere le cose un po' pasticciate anche a livello di colori e l'altro è che la pochette, anche se te la metti bene, nell'arco del tempo un po' si spettina, un po' si crea dei bozzi e io vorrei le cose, almeno su me, sempre in ordine, quindi la pochette... Per quanto riguarda i materiali, ovviamente potete decidere voi che tipo di materiale utilizzare, perché? Perché se la utilizzate d'estate è ovvio, non c'è neanche bisogno che ne parliamo in questo video, che deve essere fatta di un materiale diverso rispetto a quello che può essere una giacca che potete utilizzare d'inverno. Io personalmente non sono un amante della giacca indossata sopra un dolce vita o sopra una maglietta, però mi rendo conto che la moda, tra virgolette, quella che tutti quanti o perlomeno la maggior parte in qualche modo sta accettando permette l'utilizzo della maglietta sotto alla giacca. Io non sono particolarmente amante di questa moda, però diciamo che la posso in qualche modo tollerare. Anzi, una cosa interessante potrebbe essere quella che mi scriviate qua sotto voi nei commenti se maglietta sì o maglietta no, t-shirt o long sleeve, fisico sì o fisico no. Mi raccomando perché la giacca non deve tirare sui bottoni, sulla pancia, perché non si può vedere. Ricordo inoltre che quando ci si siede ci si slaccia la giacca, quando ci si rialza si allaccia. Lo so, è uno sbattimento, ma la giacca è questo. O perlomeno, dai, è anche questo. Parliamo ora della quantità di bottoni. Due o tre bottoni? Eh, qui dipende. Io prediligo quelle a tre bottoni e si allacciano solamente i primi due. Fondamentalmente si allaccia al centrale, il primo chiamiamolo optional. Però, se volete, potete anche optare per quella a due bottoni. Le giacche a doppio petto non sono adatte a tutte le occasioni. Io, personalmente, reputo le giacche a doppio petto, ma questo è il mio personalissimo parere, un po' troppo opi. Chi è un videogiocatore di voi sa che cosa significa. Quindi, tendo a non utilizzarle mai. Cioè, non credo di averne mai messa una, se non a carnevale, quando ero giovane. Ma, quando ero piccolo. Ma, ci sono dei momenti in cui, se uno vuole vestirsi estremamente formale, con un abito, magari tre o cinque pezzi, può utilizzare una giacca a doppio petto. Bene, signori, questo era un video estremamente veloce su quello che riguarda le giacche, perché ne abbiamo già parlato e ci sono un sacco di informazioni qua su internet che potete andare a recuperare. Però, mi rendo conto che, forse, in una maniera molto sbrigativa, con dei punti così estremamente sintetici, si riesce a capire, al meglio, che tipo di impatto deve avere la nostra giacca sugli altri. E poi, soprattutto, anche che tipo di feel deve dare a noi. Ricordatevi, le spalle e la lunghezza delle maniche. Questi sono i due punti basilari. Ovviamente il colore, parliamo anche dei colori, un colore tipo un marrone su una giacca di cotone, con spalle destrutturate, chiamiamole così, piuttosto mollicce, potrebbe essere una giacca di lino per l'estate, sopra a una bella camicia. Però, anche qui, bisogna sempre valutare, di situazione in situazione, bisogna avere un minimo di spirito critico e cercare di capire per che cosa si sta acquistando quella giacca e, soprattutto, noi compriamo una giacca che, magari, lì, sul momento, ci piace. Ma abbiamo delle occasioni all'interno delle quali potremmo usare quella giacca? Cioè, riusciamo a proiettarci in più di un'occasione? Poi, se vogliamo spendere del denaro per avere quella giacca per una serata, festa in barca con degli amici, vabbè, ci può anche stare. Però, io sono sempre dell'idea che tutto quello che compriamo, uno deve essere di qualità. Quindi, non comprate una giacca da 29,90€ in un negozio qualsiasi che vi fa in qualche modo. Dai, ci siamo capiti. Comprate una giacca che vi costa, magari, 229,90€, ma che potete utilizzare in più di un'occasione. Perché questo? Perché se andate a una festa dove ci sono io, non è vero, dove c'è qualcuno che se ne intende, ma anche solo poco poco, ve la vede quella giacca addosso e capisce se quella giacca è fatta bene oppure no. E l'eleganza è anche un po' il sentirsi a proprio agio, non solo in quello che si indossa, ma godere insieme agli altri di quello che è bello, fondamentalmente. Bene amici, io chiuderei qua il video. Vi dico solo che, se avete delle giacche nell'armadio, provate ad andare a buttare un occhio e fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti o magari anche su Telegram o su Instagram e mandatemi qualche foto su come vi casca e su come vi calza e come vi sta quella giacca. Non so se si può dire che calza, vabbè, ma ci siamo capiti. Nell'eventualità che quella giacca non vi convince, ecco, fate quello che abbiamo visto in qualche video fa. Eliminate quello che non vi convince dal guardaroba e cominciate ad avere cose di qualità. Perché nell'armadio il no, questo lo tengo, che tanto poi magari questo lo metterò in quella determinata occasione, no, non funziona così, non lo metterete mai, ve lo dico, lo metterete due o tre volte all'anno, quindi lasciamo perdere. Oculatezza, chiarezza delle proprie idee e soprattutto gusto. Signori, grazie per essere stati con me in questo video e noi ci vediamo giovedì con un altro video nel quale chiacchiereremo di una cosa importante. Seguitemi su Instagram perché ogni tanto faccio delle storie all'interno delle quali faccio dei micro poll con i quali prendo delle decisioni su cosa registrare per il giovedì. Perché l'ho sempre saputo, però adesso sto cercando di utilizzare le vostre informazioni in una maniera molto più immediata. Noi ci vediamo al prossimo video. Signori, abbiate cura di voi e abbiate stile. Buttate un occhio nel vostro armadio. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.